Terra del Sole 2014, il tempo della storia. Nel 2014 infatti ricorrerà il 450esimo anniversario della fondazione della città ideale di Terra del Sole e proprio nell'approssimarsi di questa ricorrenza l'amministrazione comunale di Castrocaroterme, Terre del Sole, ha deciso di porre il palazzo pretorio già dei commissari al centro di un complesso programma di restauri, il cui primo stralcio vedrà in particolare il recupero della facciata principale valendosi a tal scopo proprio del sostegno della fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Progetto importantissimo perché Terra del Sole compirà 450 anni e quindi è una tappa alla quale bisogna arrivare preparati belli fuori e quindi grazie al contributo della fondazione Cassa dei Risparmi siamo riusciti a far partire questo progetto di recupero della facciata esterna e poi ci sarà un secondo stralcio con il recupero delle loggie sopra loggie e poi la parte che ci auguriamo a questo punto sarà portata a termine da chi raccoglierà il nostro testimone di realizzare questo progetto di valorizzazione della cittadella, un progetto che vuole vedere l'intervento di università, di studiosi cioè non deve essere solo commemorativo e celebrativo ma deve essere un vero stimolo, un vero volano per il recupero di tutto il turismo attorno a Terra del Sole e Castrocaro Terme.